Sono sbarcati a Reggio Calabria e poi portati in un centro di prima accoglienza tutti gli 89 migranti a bordo della Rise Above, la nave della ONG Mission Life Live. Lo sbarco è stato autorizzato perché è considerato come un evento di salvataggio in mare. Situazione di stallo per la Geo Barents e Humanity One attraccate al porto di Catania tra le proteste di migranti rimasti a bordo e visitati dagli ispettori e la battaglia legale. Si infiamma lo scontro politico tra l'opposizione che attacca l'inumanità del governo e Salvini che replica sono viaggi organizzati, bisogna stroncare questo traffico di esseri umani. Nuovo intervento dell'Unione Europea, gli stati membri sono tenuti a offrire un accesso effettivo alle procedure d'asilo nel rispetto del chiaro quadro normativo in vigore, fa sapere Bruxelles, mentre la conferenza dei Vescovi sottolinea che non è ammissibile un'accoglienza selettiva. Enrico Letta dice no al sossegno del PD alla candidatura di Letizia Moratti, ex ministra di Berlusconi e vice del leghista Fontana alla regione Lombardia. Moratti propone un tavolo di lavoro aperto a tutti, mentre dal terzo polo Carlo Calenda rilancia. Siete sicuri? Un ticket Moratti e una personalità della sinistra lombarda isolerebbe la destra sovranista, ma i dem sembrano intenzionati a proporre un loro candidato. È il giorno del voto di metà mandato per la nuova Camera, un terzo del Senato e 36 governatori, un test cruciale per il presidente Joe Biden e i democratici che faticano nei sondaggi della vigilia. In cui vengono dati intorno al 40% in pressing i repubblicani di Donald Trump, che ha detto di avere pronto per il 15 novembre un grandissimo annuncio, poco dopo la mezzanotte, lo speciale del Tg La Sette condotto dal direttore Enrico Mentana per seguire in diretta i risultati. La Russia non pone condizioni preliminari all'apertura di trattative con l'Ucraina, tranne che Kiev dimostri buona volontà. Lo ha detto il vice ministro degli esteri, Andrei Ryudenko, un segnale importante a cui questa mattina si è aggiunta la notizia che il presidente ucraino Zelensky prenderà parte al G20 di Bali in videoconferenza. Al vertice potrebbe prendere parte sempre in videoconferenza anche Vladimir Putin. Tragedia questa mattina a Milano, un ragazzo di 14 anni è stato investito da un tram mentre in bicicletta stava raggiungendo il liceo. L'incidente è avvenuto in via Tito Livio intorno alle 8, inutili soccorsi. Sotto shock l'autista 45enne del mezzo ATM, il sindaco Sala, ha proclamato un giorno di lutto cittadino. Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già a lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo. Così l'archeologo Jacopo Tobolli sul ritrovamento di 24 statue etrusche avvenuto a San Casciano dei Bagni, nel Senese. Un tesoro considerato unico, il più importante dai tempi dei bronzi di Riace, accompagnato da un'incredibile quantità di iscrizioni in etrusco e latino. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della Sette. Allora, cominciamo da Catania, dove prosegue lo stallo a bordo delle navi umanitarie, dove si trovano ancora quei migranti a cui è stato imposto il divieto di sbarco. E deve essere stato difficile anche il compito dei sanitari che questa mattina sono saliti sulle imbarcazioni per stabilire se si tratti davvero di persone fragili. Medici, psicologi, psichiatri. È tarda mattina quando un team di ispettori del Ministero della Salute percorre la scaletta che congiunge la terraferma e la Geobarens, nave di medici senza frontiere ferma ormai da due giorni al mollo 10 del porto di Catania. Il compito degli ispettori è visitare i migranti per capire le loro condizioni sanitarie se dopo 48 ore fermi nella nave senza permesso di sbarco la loro situazione fisica e mentale è incompatibile con la permanenza sull'imbarcazione. Secondo il nuovo decreto interministeriale possono entrare nel circuito dell'accoglienza oltre a minori e nuclei familiari soltanto i fragili. Gli altri, insieme alla nave delle ONG, devono tornare in acque internazionali. Domenica sera dalla nave sono scesi 358 migranti. Gli altri 214 attendono il loro turno. Chi non sarà in condizione verrà portato a terra dove si trovano già due siriani lanciatisi in mare rimati sulla banchina per tutta la notte. Anche loro verranno visitati. Questo non è un favore, è un dovere, un obbligo. Un obbligo di fare scendere tutti e un obbligo di assistere con i bisogni che ne hanno. Sono scesi invece tutti a terra il reggio Calabria, i migranti salvati in mare dalla Reisabov, nave dell'ONG tedesca Lifeline. 89 persone. A tutti è stato concesso il permesso di sbarco perché l'ONG ha recuperato i migranti nelle acque SAR di competenze italiane, operando in sinergia con le nostre autorità. Dopo giorni di attesa l'imbarcazione ha ricevuto il permesso di portare a terra tutti i migranti. Diverso invece il destino di chi aspetta sulla Humanity One. La nave dell'ONG tedesca trasportava 179 persone. A 35 è stato negato lo sbarco e ora, da ieri, in segno di protesta, sono in sciopero della fame. L'organizzazione non governativa stamattina ha depositato due ricorsi contro il decreto emesso dal governo, uno al Tribunale Amministrativo del Lazio, l'altro al Tribunale Civile di Catania. Chiedono che il provvedimento che gli intima di lasciare il porto siciliano venga annullato e che tutte le persone a bordo della nave vengano considerate profughi. E c'è grande incertezza anche sulla situazione di Oceania Viking, nave di SOS Mediterranea che si trova in acque internazionali con a bordo 234 migranti. Di questi 55 sono minori. Fate risbarcare, ha scritto oggi l'ONG, le loro condizioni di salute. Sono critiche. Ecco, ma quello che sta succedendo nel porto di Catania non costituisce una prima volta. È già accaduto quando al Vimilane non c'era piante dosi, ma c'era il leghista Matteo Salvini, al Ministero degli Esteri c'era Di Maio e alla Presidenza del Consiglio c'era Giuseppe Conte. Solo che questa volta è stato introdotto un elemento in più, ovvero la differenziazione tra fragili e non fragili, davvero molto labile. L'Unione Europea ricorda oggi ancora una volta come però sia necessario fornire a tutti i cittadini di uno Stato terzo che si trovano all'interno di uno Stato membro il diritto a presentare le domande di asilo. Lo aveva annunciato scatenando polemiche in piena campagna elettorale. Vigileremo sul rispetto dei diritti in Italia. Oggi Laurence Boone, segretario di Stato francese per gli affari europei, scende in campo sui migranti portando lo scontro politico oltre confine. Incontra a Parigi il ministro Raffaele Fitto. Ricorda che la Francia è al fianco dell'Italia nel quadro della solidarietà europea, ma precisa, sulle navi umanitarie bisogna applicare le regole del diritto internazionale. Quello che da giorni chiede l'opposizione PD, con sinistra italiana e verdi, forti dalle norme invocate anche dalle ONG. Aspettando di leggere il testo del decreto, ancora non pubblicato, dopo due giorni di silenzio con le critiche del PD, parla anche Giuseppe Conte che sul tema chiede da sempre un coordinamento europeo per accoglienza e redistribuzione. Servono politiche di ampio respiro, scrive oggi il leader del movimento, senza facili slogan o esibizioni muscolari a danno di persone e famiglie disperate. E parla anche Carlo Calenda, è la ripetizione dello sconcio avvenuto sotto il governo Conte e Salvini, attacca ma si discute di simboli, non del problema, di come governarlo o farlo diventare un'occasione di sviluppo. Torna a farsi sentire anche la CEI, non utilizziamo il Papa come copertura di scelte politiche, ripensiamo seriamente la legge Bossi-Fini, l'appello di Monsignor Savino, su cui abbiamo steso un velo pietoso senza capirne le conseguenze. La polemica non vede però crepe nella maggioranza, con Forza Italia a fianco del governo, dopo il distinguo sul decreto Reive-Medici-Novax. Appena ieri Antonio Tajani aveva ribadito che bisogna essere fermi con le ONG perché c'è una strategia dietro il loro agire. Bisogna salvare i vite umane, si ha detto il ministro degli esteri, ma allo stesso tempo bloccare i flussi all'origine. E la nave della ONG spagnola SMH annuncia di voler rinviare la missione prevista nel Mediterraneo, esulta Matteo Salvini. Avanti così, scrive l'altro vicepremier, l'Italia non sarà complice del traffico di esseri umani. Immigrati ma anche emigrati. È molto interessante quanto emerge ancora una volta dal rapporto sugli italiani all'estero della Fondazione Migrantes. Sono milioni di persone che ogni anno decidono di andare a lavorare o a studiare all'estero e questi sono soprattutto giovani che volenti o nolenti vanno lì per costruire il proprio futuro. Un tema su cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto una profonda riflessione. Italia, paese di emigrazione. L'idea che rispetto agli anni in cui i nostri connazionali partivano con la valigia di cartone, il flusso oggi sia del tutto invertito, è smentita dal rapporto di migrantes italiani nel mondo. L'indagine della Fondazione della CEI scatta la fotografia di un'Italia interculturale in cui l'8,8% dei cittadini regolarmente residenti sono stranieri, quasi 5,2 milioni, mentre il 9,8% dei cittadini italiani risiedono all'estero, oltre 5,8 milioni. Ci sono quindi più italiani all'estero che stranieri regolari in Italia. Sono i giovani tra i 18 e i 34 anni a emigrare di più, 41,6%, soprattutto maschi non sposati. Dati che impongono una riflessione, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Presidente di Fondazione Migrantes, soprattutto per un Paese che ha una lunga storia di emigrazione. Riflettere, scrive il Presidente, sulle cause di questo fenomeno e sulle possibili opportunità che la Repubblica ha il compito di offrire ai cittadini che intendono rimanere a vivere o desiderano tornare in Italia. Con la pandemia l'emigrazione ha subito un calo del 23,5% nel 2021 e del 36% nel 2020, in un trend comunque di crescita della mobilità italiana dell'87% dal 2006 al 2022. La via per l'estero si presenta per i giovani, unica scelta da adottare per la risoluzione di tutti i problemi esistenziali, autonomia, serenità, lavoro. E così ci si trova di fronte a un'Italia demograficamente in caduta libera, scrive il rapporto. La destinazione più scelta è l'Europa, 78,6%. Il 15% opta invece per l'America, soprattutto latina. Il restante 7% circa è diviso tra Asia, Africa e Oceania. Si parte in particolar modo dalle regioni del nord, Lombardia, 19% e Veneto, 12% in testa. Seguono Sicilia, Emilia-Romagna e Campania. Tuttavia molti dei cittadini che lasciano il nostro paese e che oggi sono Lombardi, Veneti ed Emiliani, erano a loro volta emigrati in precedenza dal sud Italia, verso il settentrione. Ora passiamo alla politica più strettamente italiana, perché ci sono le elezioni regionali nel Lazio, in Lombardia, che si dovrebbero tenere nel prossimo mese di febbraio a creare fermento, soprattutto nelle file delle opposizioni, che ancora una volta non sono unite sul nome da candidare in contrapposizione al centro-destra in queste due importanti regioni e sulla possibilità di appoggiare Letizia Moratti, che ha annunciato nei giorni scorsi la candidatura ufficiale anche dietro al terzo polo di Renzi e Calenda. Il Partito Democratico Enrico Letta sembra avere dato la parola finale. Non c'è un solo motivo al mondo per cui il PD debba candidare Letizia Moratti, ex ministra di Berlusconi e ex assessora del leghista Fontana. Così Enrico Letta avrebbe tentato di chiudere il discorso nella riunione di ieri della segreteria PD. La Moratti intanto propone un tavolo di lavoro aperto a tutti e definisce la sua identità liberale riferita alla dottrina sociale della Chiesa. Ma il lancio della sua candidatura per la regione Lombardia da parte del terzo polo è suonato come una provocazione tesa a spaccare idee ma già alle prese dopo la sconfitta con il difficile percorso congressuale per una rifondazione e un cambio di leadership. Una provocazione rilanciata da Carlo Calenda. Un ticket tra Letizia Moratti e una personalità della sinistra Lombarda isolerebbe la destra sovranista e la sconfiggerebbe. Con riflessi profondi a livello nazionale Salvini ne uscirebbe a pezzi sicuri, dice Calenda di voler andare per altre strade del PD. Ma come quella di Letta anche la reazione della sinistra DEM è senza appello. Andrea Orlando dice sorprende la sorpresa per il rifiuto del PD a sostenere Moratti. Il fatto che a qualcuno sia venuto in mente di proporlo deve farci riflettere su quanto lavoro serve per restituire al PD un'identità chiara e riconoscibile. Eppure la riformista ed ex-serenziana non chiude del tutto e c'è l'ipotesi di provare a passare attraverso primarie di coalizione mentre continua il pressing su Giuliano Pisapia finora non intenzionato a tornare in campo. Sul Lazio intanto oggi potrebbe finire l'attesa dei DEM per la decisione dei 5 Stelle. Nel pomeriggio Giuseppe Conte ha convocato una conferenza stampa per dire sì o no la riproposizione del campo largo che finora ha guidato la regione con Nicola Zingaretti ma potrebbe rilanciare l'inaccettabile condizione del no al termo valorizzatore di Roma e anche qui dunque regna la grande difficoltà del PD dopo l'endorsement del terzo polo per l'assessore alla Sanitale Sio D'Amato si parla di primarie escluse però già da Calenda si fanno vari nomi tra gli altri quello di Enrico Gasbarra che potrebbe piacere ai 5 Stelle un'intesa con Conte sarebbe naturale dice Goffredo Bettini che lavorerebbe all'ipotesi Gasbarra un Bettini molto attivo in questi giorni contro la gestione eletta e contro l'ala riformista del partito. Negli Stati Uniti dopo mesi di campagna elettorale senza sconti e fortemente polarizzata è arrivato il giorno del voto le elezioni di medio termine per il controllo del congresso delle due camere appunto Camera e Senato naturalmente si tratta di un appuntamento cruciale in cui Joe Biden se la vede in qualche modo anche con Donald Trump che promette subito dopo queste elezioni un annuncio molto importante con ogni probabilità si tratterà della sua candidatura alle presidenziali tra due anni dunque una prova che seguiremo anche con il nostro telegiornale con una lunga diretta di Enrico Mentana a partire questa sera dalla mezzanotte e 40 ma vediamo ora il servizio i proclami sono finiti oggi l'America è al voto eppure a tenere banco più che le elezioni di medio termine è il futuro di Donald Trump il 15 novembre da Maralago dice durante il suo ultimo comizio in oaio per sostenere la candidatura dello scrittore ed imprenditore J.D. Vance farò un grandissimo annuncio i contenuti sono facilmente immaginabili la corsa per la presidenza nel 2024 spiazzando per primi repubblicani che si sottraggono al suo controllo poi le sue ex creature come il governatore della Florida Ron DeSantis che è cresciuto in statura politica vorrebbe sfidarlo e infine i procuratori che vorrebbero portarlo in tribunale per le ingerenze nello svolgimento corretto delle passate elezioni presidenziali per l'assalto al congresso da parte dei suoi sostenitori e per i documenti anche top secret nascosti nella sua residenza prima però i repubblicani tra oggi e domani devono fare man bassa di voti ed il clima è quello giusto Biden è poco sopra il 40% in passato con numeri simili nessuno ha mantenuto la maggioranza al congresso non solo il tema più caldo l'economia è un problema per i democratici con l'inflazione alle stelle per il senato tutto si gioca su alcuni duelli chiave i democratici devono mantenere ad ogni costo Nevada, Arizona New Hampshire e soprattutto la Georgia con la sfida tra Raphael Warnock eletto solo due anni fa e la star del football trampiano di ferro Elshir Walker i repubblicani non possono invece perdere il seggio vacante in Pennsylvania tra il medico più televisivo d'America il dottor Mehmet Oz e il vice governatore democratico Lewis Fetterman che ha avuto una campagna elettorale complicata da un ictus la strategia dei candidati democratici è presentarsi come la forza moderata la diga contro gli estremisti della destra trampiana Biden da tempo ripete e lo ha fatto anche ieri notte nel suo comizio in Maryland è arrivato per voi il momento di difendere la democrazia stiamo affrontando una delle forze più cupe della storia questo non è il partito repubblicano dei vostri padri la galassia MAGA acronimo dello slogan di Trump make America great again è pericolosa ed infatti è già cominciata la lotta sulla legalità del voto con Trump e i suoi avvocati che parlano di brogli se tutti i conteggi non verranno fatti entro stanotte i democratici invece sanno bene che per contare il pre-voto che li vede favoriti serve tempo e dai rapporti di forza interni agli Stati Uniti d'America naturalmente anche dipende il destino della guerra in Ucraina dopo mesi dopo nove mesi esattamente dall'inizio dell'invasione russa del paese il conflitto resta davvero molto sanguinoso non si vede una possibile via d'uscita l'esercito russo e quello ucraino si combattono ferocemente Kiev tenta di resistere nella città cruciale di Kherson e appunto non si vede una via d'uscita anche se a parole qualcosa sembrerebbe muoversi le posizioni di Mosche e Kiev restano distanti ma qualcosa sullo scacchiere della diplomazia internazionale sembra muoversi secondo quanto trapelato da un portavoce della presidenza ucraina al G20 di Bali potrebbe partecipare non solo Zelensky ma secondo quanto riferito dal presidente indonesiano anche Vladimir Putin per i due leader anche se in videoconferenza sarebbe la prima occasione di incontro in un contesto internazionale dall'inizio del conflitto intanto nel giorno delle elezioni di militare il presidente ucraino ha chiesto agli Stati Uniti di mantenere un'unità incrollabile fino a quando la pace sarà ristabilita in ogni caso la condizione principale per la ripresa dei negoziati è il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina ripete il segretario del consiglio di sicurezza e di difesa di Kiev Danilov dal Cremlino il vice ministro degli esteri Andrei Rudenko fa sapere invece che la Russia non pone condizioni preliminari all'apertura di trattative con l'Ucraina tranne che Kiev dimostri buona volontà una posizione quella russa che sottolinea Rudenko non è dettata certo dalle pressioni americane del resto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan conferma che i canali di comunicazione tra Washington e Mosca sono rimasti aperti in attesa che qualcosa si sblocchi la situazione sul campo resta però ancora difficile soprattutto per la popolazione civile l'operatore statale Ucranergo ha fatto sapere che anche oggi sono previste interruzioni dell'elettricità da nord a sud dal momento che il consumo è in aumento a causa del freddo restrizioni che non risparmiano neanche la capitale Kiev sono le conseguenze dei bombardamenti russi le truppe di Mosca le quali nella regione di Kherson si sono aggiunte anche quelle dei miliziani ceceni di Kadirov non colpiscono soltanto con i raid aereo con l'artiglieria ma secondo l'intelligenza britannica sarebbero rafforzando le difese dietro l'attuale linea del fronte per prevenire la controffensiva Ucraina Il conflitto in Ucraina che alimenta anche la terribile crisi energetica in corso a livello planetario così come le condizioni meteorologiche non sono mai state così estreme di tutto questo si parla alla COP27 in corso a Sharmashic in Egitto oggi è la seconda giornata la portata della sfida è titanica si cerca di rallentare il surriscaldamento del pianeta eppure i fondi stanziati dai singoli paesi non sono di certo abbastanza le promesse che erano state fatte l'anno scorso alla COP26 non sono state mantenute né dai paesi maggiormente sviluppati né da quelli più poveri oltre 2000 miliardi di dollari l'anno entro il 2030 soldi provenienti dai paesi sviluppati ma anche da investitori esterni e istituzioni multilaterali sono quelli di cui i paesi del sud del mondo avranno bisogno secondo un rapporto commissionato dalla presidenza della COP27 in corso di svolgimento Sharmashic in Egitto per finanziare le loro azioni per il clima e dunque per ridurre le emissioni affrontare perdite e danni causati dai cambiamenti climatici e ripristinare la terra e la natura ecco i danni gli stati in via di sviluppo i meno responsabili dei cambiamenti climatici in atto ma i più esposti agli effetti devastanti di questi ultimi chiedono che finalmente venga istituito quell'apposito fondo loss and damage che alla COP26 di Glasgow non fu possibile creare ma che potrebbe essere l'unico tangibile risultato di una conferenza che per il resto è destinata a chiudersi tra otto giorni con grandi promesse ma senza azioni concrete vista anche l'assenza di tre tra i maggiori produttori di anidride carbonica del mondo Cina India e Russia promesse come ad esempio quella della presidente del consiglio Meloni che ieri ha ribadito l'impegno dell'Italia a uniformarsi agli obiettivi dettati dall'Unione Europea per una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 per la neutralità climatica entro il 2050 o quelle del presidente francese Macron e del primo ministro britannico Sunak i quali hanno affermato che gli impegni climatici non saranno sacrificati sull'altare della minaccia portata dalla Russia con la sua invasione dell'Ucraina la realtà tuttavia è quella di un pianeta nel quale si continuano a spendere fiumi di denaro in sussidie ai combustibili fossili quest'anno il doffio rispetto al 2020 e nel quale l'88% dei paesi non ha intrapreso azioni per rivedere i piani climatici l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura globale entro il grado e mezzo rispetto all'era preindustriale rimane dunque una chimera e quel patto di solidarietà climatica tra stati ricchi e stati emergenti auspicato ieri dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres per non percorrere fino in fondo quell'autostrada per l'inferno climatico sulla quale stiamo viaggiando quasi una illusione la Coppa 27 è stata anche l'occasione per Giorgia Meloni di un primo incontro con i leader mondiali e di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi è stata la prima volta dopo l'uccisione al Cairo di Giulio Reggeni l'argomento è stato evocato durante questo faccia a faccia tra i due leader e anche c'è stato si è parlato di Patrick Zaki quel studente dell'Università di Bologna che è stato arrestato in Egitto ora è fuori dal carcere ma vorrebbe ritornare in Italia per il momento non lo può fare perché c'è un divieto del despatrio per discutere la sua tesi Studia l'italiano sta finendo gli esami del master e spera di poter tornare in Italia per discutere la tesi in presenza a Bologna in primavera l'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi ha riacceso le speranze di Patrick Zaki che qualcosa possa cambiare presto a partire dal diveto imposto dall'autorità giudiziaria egiziana di lasciare il paese la prossima audienza del suo processo è prevista per il 29 novembre lo studente egiziano accusato di diffusione di notizie false rischia cinque anni di carcere nelle poche righe diffuse da Palazzo Chigi si spiega che nel bilaterale di ieri la presidente Meloni ha sottolineato la forte attenzione dell'Italia sul suo caso e su quello di Giulio Reggeni vicenda quest'ultima che ha segnato i rapporti tra i due paesi negli ultimi anni quello di ieri è stato il primo faccia a faccia ufficiale in cui si è toccato l'argomento da quando fu ritrovato il corpo dei ricercatori friulano il 3 febbraio del 2016 alla periferia del Cairo il governo egiziano attraverso il suo portavoce ha manifestato una generica disponibilità alla cooperazione ma l'Egitto finora ha di fatto impedito la notifica del procedimento ai quattro ufficiali egiziani indagati in Italia per sequestro di persona pluriaggravato con corso e lesioni personali gravissime e omicidio senza questo addempimento la Corte d'Assise di Roma e la Cassazione hanno stabilito che il processo non può iniziare dal canto suo la magistratura egiziana accusa Roma di aver travisato fatti e prove e per il momento non c'è alcuna ragione di intraprendere procedure penali perché il responsabile resta sconosciuto una posizione ribadita recentemente dall'Egitto che ha confermato che rimane valido il decreto di archiviazione nei confronti dei quattro imputati con la precisazione che non si potrà più aprire un procedimento nei loro confronti a sbloccare la situazione potrebbe essere una notifica sul luogo di lavoro degli imputati altrimenti si aprirebbe la strada di un arbitrato internazionale nell'incontro con Al-Sisi Meloni ha sollevato in generale rispetto dei diritti umani nel paese ieri tre giornalisti egiziani hanno iniziato uno sciopero della fame per chiedere la liberazione del connazionale al-Abdel Fattah l'attivista incarcerato che da oltre 200 giorni rifiuta il cibo e da sabato anche di bere E' morto Giuseppe Bono figura storica dell'industria pubblica italiana amministratore delegato per 20 anni fino ad aprile scorso di Fincantieri aveva 78 anni la sua guida ha rivoluzionato la società con sede a Trieste controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti dopo essere stata quasi sull'orlo del fallimento Fincantieri è diventato il più importante gruppo navale d'Europa capace di competere a livello mondiale non solo nella costruzione di navi civili e militari ma anche nelle infrastrutture come per citarne alcune il nuovo termine al crociere di MSC a Miami e la partecipazione per la ricostruzione dell'ex ponte Morandi a Genova Cordoglio è stato espresso da tutto il mondo politico e industriale ora una brutta notizia sarà proclamato un giorno di lutto cittadino a Milano dove questa mattina uno studente pensato un ragazzo di appena 14 anni è deceduto per essere finito con la sua bicicletta con cui si stava recando a scuola alle 8 del mattino sotto a un tram il conducente del mezzo pubblico è ricoverato in stato di sciocco ora si tratterà di capire quali sono state le dinamiche ma sembrerebbe un tragico incidente un mucchio di ferro sulla strada questo rimane della bicicletta di Luca il 14enne che stamattina come ogni mattina stava andando a scuola e ora non c'è più è stato investito da un tram in via Tito Livio a Milano alle 8 e 15 del mattino era uscito di casa all'appuntamento con l'amico in bici per andare al liceo scientifico Einstein che aveva iniziato da pochi mesi frequentava la prima secondo le prime ricostruzioni il suo compagno sarebbe andato dritto mentre lui avrebbe girato a sinistra all'ultimo momento nello stesso istante in cui stava arrivando il tram della linea 16 l'autista che si è accorto dell'arrivo del ragazzino ha provato a suonare e a rallentare la marcia ma non è riuscito a frenare in tempo e lo ha travolto l'incidente sarebbe avvenuto in un tratto in cui c'è un piccolo pezzo di asfalto che viene utilizzato dagli altri mezzi in circolazione per svoltare a destra o a sinistra a seconda della direzione o per fare inversione lungo la via quel tratto di strada era proprio in direzione del liceo frequentato da Luca il conducente del tram sotto shock è stato portato all'ospedale mentre inutili sono stati i tentativi del 118 di rianimare il ragazzo che è morto quasi subito la procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo stradale e ha indagato il conducente della TM il tram è stato messo sotto sequestro sequestrata anche la bicicletta si stanno ascoltando i testimoni oggi per Milano è un giorno molto triste sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino ha detto il sindaco Beppe Sala che ha annullato gli impegni odierni mentre nella scuola di Luca il liceo Einstein alle 11.30 i ragazzi hanno osservato un minuto di silenzio per il loro compagno programiamo argomento andiamo a San Casciano dei Bagni dove c'è stata una eccezionale scoperta archeologica sono state rinvenute decine di statue di bronzo si tratta della scoperta forse probabilmente più importante dai tempi dei bronzi di Riace questi reperti dell'epoca romano-etrusca con moltissime preziose iscrizioni erano sepolti dai fanghi termali e dall'acqua bollente che probabilmente li hanno preservati intatti pensate per oltre 2300 anni una scoperta che riscriverà un pezzo di storia nel mondo dell'archeologia la più importante dai bronzi di Riace lo stesso neoministro della cultura Gennaro San Giuliano parla di un ritrovamento eccezionale 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura 5 alte quasi un metro integre in perfetto stato di conservazione ritrovate a San Casciano dei Bagni in provincia di Siena le statue erano adagiate sul fondale di una grande vasca romana raffigurano divinità come Apollo Igea ma anche imperatori fanciulli e matrone sono state protette per più di 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre risalgono con tutta probabilità tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo sono state realizzate probabilmente da artigiani locali il santuario nel quale sono state ritrovate caratterizzato da numerose piscine da fontane e d'altari ma anche da terrazze degradanti esisteva già da un paio di secoli ed è stato chiuso ma non distrutto intorno al quinto secolo dopo Cristo il santuario ha rivelato uno dei contesti di bronzi più importanti del Mediterraneo statue ex vuoto oggetti anche della ritualità quotidiana che dobbiamo immaginare portasse tantissime persone a cercare la salute in questo luogo e non è un caso che molti degli ex vuoto rappresentano proprio gli organi gli organi che si chiedeva alla divinità fossero salvati le vasche furono sigillate con pesanti colonne di pietra le divinità affidate all'acqua è anche per questo che le abbiamo ritrovate intatte di fatto il più grande deposito di statue dell'Italia antica e comunque l'unico di cui abbiamo la possibilità di ricostruire interamente il contesto serva l'archeologo dell'Università di Siena Jacopo da Bolli la scoperta svela il contesto storico con le grandi famiglie del territorio che frequentavano il santuario autorevoli esponenti del mondo etrusco e romano proprietari terrieri signorotti locali la lingua etrusca è sopravvissuta molto più a lungo di quanto si pensi un luogo unico una sorta di bolla di pace anche nel periodo in cui infuriavano grandi conflitti dove i due mondi etrusco e latino sembrano convivere senza problemi che meraviglia ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità a ritorno vedremo sicuramente le notizie sportive e poi anche se ci sono eventuali aggiornamenti a tra poco eccoci di nuovo qui allora per lo sport ripartiamo dal calendario del calcio che corre verso la lunga sossa per i mondiali mentre da oggi a giovedì va in scena la quattordicesima giornata di Serie A il Napoli che guida la classifica è andato rifatto ma oltre i 35 punti c'è di più comanda il campionato non è una differenza di poco conto i complimenti per il gruppo di Spalletti sono un inno alla sinfonia di gioco risultati che finora si traduce in numeri che certificano lo spessore di un cammino travolgente a partire da Osimène che stiamo ammirando nell'esplosione definitiva della sua prepotenza fisica di cui beneficiano anche i compagni oltre al saldo di 8 gol personali che lo eleggono capocannoniere miglior attacco del campionato con 32 reti alle quali si aggiungono le 20 in Champions per un totale da brividi di 52 non troppo ermetica la difesa con 10 gol subiti dietro a Juve e Lazio e qui si potrebbe riaprire il vecchio dibattito su quale sia il presupposto migliore per vincere lo scudetto un corollario che aggiunge pregio è che il Napoli ha vinto gli scontri diretti in casa di Milan Lazio, Atalanta e Roma ma oltre le statistiche c'è il cambio di mentalità nella convinzione della squadra che l'ha portata a ribaltare quattro volte il risultato in questa settimana prima del congedo per il Mondiale c'è la grande occasione di due partite al Maradona contro Empoli e Udinese oggi contro i Toscani di Zanetti non ci sarà ancora Kvalaschelia per la Lombagia e stavolta sarà Raspadori a giocare nel Tridente insieme a Politano e Osimen andrà cancellato il brutto ricordo della stagione scorsa in cui l'Empoli si prese i sei punti del doppio confronto alla dittatura del Napoli 10 punti sulla Juventus e 11 sull'Inter sta cercando di ribellarsi il Milan che giustamente tira fuori l'orgoglio di campione Italia e naviga sei punti indietro il successo con fatica sullo Spezia è stata una sorta di riabilitazione dopo la brutta figura con il Toro e adesso c'è la trasferta contro la Cremonese prima dell'epilogo con la Fiorentina i Lombardi sono l'unica formazione a non avere mai vinto Pioli stasera deve rinunciare per squalifica a due colonne Teo Hernandez e per Origi sarà difficile emulare il centravanti francese un po' di riposo per Leao sostituito da Rebic Spezia Dunese è la prima volta del tecnico Gotti contro il suo passato mentre i friulani si sono piantati come ciclisti il successo manca dal 3 ottobre lo spartagonistico significa anche un impegno estremo con comportamenti talvolta al limite dell'accettabile da parte degli allenatori e delle società dopo la ritmica arrivano le denunce delle ragazze dell'aerobica lo scandalo della ginnastica ritmica si allarga anche all'aerobica già domani Nina Corradini e Anna Basta le atlete della ritmica che per prime hanno denunciato saranno ascoltate in procura federale poi il 17 novembre il procuratore Rossetti si recherà al centro tecnico di Desio commissariato giovedì scorso per raccogliere direttamente le testimonianze delle ginnaste della nazionale il giorno dopo saranno ascoltate le allenatrici intanto la federazione ha nominato il quinto componente del safeguarding officer organismo di controllo per la tutela dei tesserati sarà l'ex campionessa di nuoto Novella Calligaris adesso anche dal mondo della ginnastica aerobica arrivano racconti di violenze psicologiche prepotenze a parlare Davide Donati 28 anni tre volte campione del mondo con la nazionale di aerobica che ha lasciato l'anno scorso e che nel 2020 aveva chiesto l'intervento dei vertici federali durante ogni pasto le ragazze venivano divise in base al loro peso c'erano due tavoli uno per le magre l'altro per le grasse come venivano definite dai tecnici la discriminazione e l'umiliazione in base al peso era pratica quotidiana in occasione dei raduni racconta Donati che aggiunge noi maschi che potevamo mangiare anche il pane lo nascondevamo dentro al cappuccio della felpa e lo portavamo alle ragazze che avevano fame dopo il pranzo Donati che nei giorni scorsi insieme a ex compagni e compagne dell'aerobica ha pubblicato la ritmica punta il dito contro la federazione che era al corrente degli abusi psicologici e che non è mai intervenuta neanche a fronte delle numerose segnalazioni è vero la ginnastica è uno sport che richiede specifiche caratteristiche fisiche che non tutte hanno o possono ottenere però insulti e vessazioni vanno ben oltre ancora Donati racconta che nel 2010 gli allenatori mettevano le ragazze in fila e passandole insultavano per i loro sederi arrivando addirittura a chiamarle la squadra delle triple chiappe una testimonianza non una denuncia sottolinea Donati per sostenere le ex atlete che vogliono cambiare il sistema della ginnastica un'altra atleta iraniana sfida il regime partecipa ad una gara di pattinaggio in Turchia senza l'Ijab il copricapo imposto alle donne iraniane in solidarietà a Masha Amini e a tutti coloro che si oppongono al liberticida regime degli Ayatollah Niloufar Mardani membro della squadra nazionale di pattinaggio di velocità femminile indossava abiti neri con la scritta Iran sulla maglietta al momento di ricevere il premio senza coprirsi il capo con il velo come un mese fa fece a Seul il Naz Recabi l'atleta che aveva gareggiato senza velo ai campionati di arrampicata il ministero dello sport ha deplorato il gesto affermando che l'abbigliamento non era stato approvato dal ministero aggiungendo che la presenza della ragazza che da un mese non fa parte della squadra era a titolo personale il nostro telegiornale si conclude qui sono le 14 e 12 minuti io però vi voglio ricordare a partire da mezzanotte 40 lo speciale il lungo speciale notturno del direttore Enrico Mentana sulle elezioni di medio termine negli Stati Uniti d'America ci saranno ospiti in studio e anche collegamenti con gli Stati Uniti appunto dove sono aperte le urne per il rinnovo del congresso vi ringrazio ancora per essere stati con noi arrivederci a domani